L'attivista russo e leader del movimento anti-Putin, Alexei Navalny, è stato condannato a 15 giorni di prigione. Il reato? Aver distribuito volantini violando le restrizioni sull'organizzazione di manifestazioni di protesta. I volantini di Navalny infatti contenevano l'invito a partecipare alla grande marcia di primavera contro il Cremlino del prossimo 1 marzo. Il leader del fronte anti-Putin ha promesso di portare in piazza 100.000 persone. Appena qualche giorno fa un altro tribunale di Mosca ha sospeso la pena a tre anni e mezzo agli arresti domiciliari, cui Navalny era stato condannato a dicembre ritenendola giustificata politicamente.